Sono valori che dobbiamo coltivare. Oggi è una giornata di memoria, ma che non deve soltanto diventare un esercizio soltanto ed esclusivamente di memoria. La memoria ci consente e ci dà la possibilità di riflettere sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro. Abbiamo il dovere di rendere onore a chi dà la vita continuamente per la nostra nazione, oltre che con le parole, soprattutto con i fatti. E' quindi la vicinanza alle forze dell'ordine, la vicinanza agli uomini delle istituzioni. E' il dovere che ognuno di noi da cittadino deve compiere con atti assolutamente ordinari. Molto spesso siamo abituati ad ascoltare e vedere atti straordinari. Ci sono uomini e donne che ordinariamente fanno il proprio dovere, che molto spesso non sono conosciuti. E anche a questi dobbiamo rendere onore e memorie. Quindi è una giornata sicuramente del ricordo, ma di un ricordo vivo attraverso gli uomini e le donne di oggi.